Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto. Accanto a me Fabio Daghetti, che saluto. Ciao Fabio. Ciao Rosi, buonasera a tutti e benvenuti. A debita a distanza, naturalmente, come dobbiamo fare in questo momento. E come vedete siamo in compagnia di M di Auto. Non siamo accanto a delle auto perché vogliamo fare un discorso un pochino particolare. Vogliamo iniziare in questo modo, poi arriveremo anche alle auto. Vero Fabio? Assolutamente sì. Noi rappresentiamo dei marchi giapponesi che hanno come offerta anche delle auto full electric. Però si pensava più di parlare dell'auto full electric e di che cosa rappresenta la mobilità elettrica oggi. Perché è una realtà assolutamente consolidata, ma io mi sono reso conto che molti utenti e molto pubblico è molto titubante ed è un po' intimorito. Ecco, forse questa è la parola. Sì, sì, ho avuto anche io questa impressione perché diverse volte Fabio mi fermano e mi chiedono notizie, mi chiedono informazioni sull'elettro. Per cui se ci aiuti a fare un po' di chiarezza, tanto meglio. Oggi la mobilità elettrica è più semplice di quello che si possa pensare. Ci sono sul mercato svariati modelli di automobili elettrici con diverse autonomie. Tendenzialmente, per esempio, noi offriamo dei prodotti che hanno circa 200 km di autonomia. Molti clienti di fronte a questo 200 sono un po' confusi perché ritengono che sia un'autonomia molto limitata. In realtà noi abbiamo un'azienda alle porte di Milano e io chiedo ai vari clienti quant'è il chilometraggio giornaliero che un cliente fa. La risposta è quasi sempre abbondantemente sotto i 100 km. Allora un cliente che magari guida la sua macchina per lavoro tutti i giorni, dalla sua casa alla città o nelle zone limitrofi, comunque sta all'interno di questo raggio di percorrenza, potrebbe essere un cliente che può utilizzare l'automobile full electric. È vero anche, Rosi, che ci vogliono alcune caratteristiche, insomma, per poter utilizzare l'auto elettrica. Chiaro che un lucro familiare oggi in casa dovrebbe comunque avere almeno un'altra automobile che possa permettere dei viaggi più indipendenti oppure più lunghi. Un altro dei concetti importanti che il cliente deve metabolizzare è quello della possibilità della ricarica domestica. La ricarica domestica è una nota importantissima per avere successo con l'utilizzo di queste auto. La cultura è un po' quella del telefonino, se possiamo dire. Ogni volta che abbiamo la possibilità di collegare un'auto a una ricarica, noi lo possiamo fare. Però tutto molto più semplice di quello che si possa immaginare. Ormai con i telefonini siamo abituati, si arriva a casa la sera e lo si mette sotto carica perché durante il giorno lo si è utilizzato. Si fa esattamente la stessa cosa con la macchina. Oppure capita che magari abbiate occasione, a me capita, di andare in qualche bar oppure in qualche ufficio dove posso ricaricarlo perché magari mi sembra centri commerciali, perché mi sembra di averla consumata un po' di batteria, anche con la macchina lo potete fare. E assolutamente se state in un raggio così, sapete che ogni giorno percorrete quel dato tipo di chilometri, cioè in totalità di chilometri, se avete 200 chilometri di autonomia sono tantissimi. È difficile che uno vada a lavorare tutti i giorni a più di 200 chilometri. Intorno alle metropoli è abbastanza difficile. Le percorrenze più lunghe molte volte poi vengono fatte in treno, in pullman. E poi ci sono, come dicevi tu, diversi modi di ricarica per un'auto elettrica. Innanzitutto è assolutamente possibile caricare la macchina con la presa di casa normalissima. Non devo mettere una cosa diversa. Posso volendolo, posso fare in questi modi. È chiaro che la velocità di ricarica dipende anche da che tipo di strumento di ricarica utilizzo. La ricarica con la presa normale da casa è quella un po' più lunga, dipende anche da che tipo di impianto oggi un'abitazione dispone. Un suggerimento che diamo a tutti i clienti è quello di installare una wallbox, cioè un trasformatore che permette, per esempio, su un'auto da 200 chilometri di fare il pieno da zero, diciamo, in 5-6 ore. Anche qui ci sono diverse tecniche di ricarica, perché io per esempio a casa mia, quando io sto usando un'auto full electric in questo momento, mediamente per venire in ufficio ho circa 30-35 chilometri e 35 per tornare a casa, più insomma qualche gironzolata per necessità personali, collego la macchina alla mia wallbox, ma ho programmato la mia vettura perché la carica possa partire a un certo orario. E quindi non la faccio partire alle 8 di sera, ma l'ho programmata che la carica possa partire dal luna del mattino. Ovviamente con la famosa cultura del telefonino non aspetto di essere al 3% di autonomia, anche se ho il 40-50%, collego la macchina e in un paio di ore avrò alla tariffa più economica, tra l'altro di notte, il pieno il giorno dopo. Volendo, se sono per strada, posso anche utilizzare le colonnine pubbliche. Le colonnine pubbliche hanno la capacità di una carica molto rapida, parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti per avere fino all'80% di ricarica. Andate in un bar a fare, a bere un cappuccino, un caffè, a bere un aperitivo e in un quarto d'ora la macchina è ricaricata. Molte volte è più facile di quello che si possa pensare. È chiaro che si deve organizzare degli spostamenti che non sono abitudinari, dovrò anche un attimino guardarmi intorno, se magari ho la possibilità in quel tal posto di avere vicino delle colonnine pubbliche, magari vado in quel centro commerciale o in quel cinema multisala che oggi ha a disposizione delle colonnine pubbliche. Questo lo posso fare anche, per esempio, con le nostre auto, con delle applicazioni, perché oggi il collegamento con le automobili è fatto anche attraverso delle app telefoniche, un po' come tutto ormai. Però attraverso l'app io posso capire se in quel tal posto, a 60 km da qui, posso avere le colonnine, se sono disponibili, funzionanti, eventualmente con alcuni tipi di abbonamento prenotare anche l'orario di arrivo, in modo che quando arrivo posso avere la colonnina a me riservata per quella mezz'ora che mi può servire per la ricarica. Certo, quindi è veramente, ma ormai mi capita, credo capiti a tutti, di vederle sempre più spesso, appunto anche nei centri commerciali, oppure nei parcheggi, veramente in tantissimi posti, perché comunque diciamo che si sta andando per il futuro verso questo tipo di alimentazione. L'auto elettrificata a questo decennio sicuramente è il suo decennio, inizierà una divulgazione di prodotto sempre più ampia, con anche tante proposte. Ecco, come faccio ad acquistarla? Certo, questa domanda è molto interessante, perché oggi abbiamo diversi incentivi governativi per l'acquisto di queste auto, abbiamo la sovrapposizione di due leggi, una del 2019 che dà uno sconto fatto direttamente dal concessionario attraverso un incentivo governativo di 4.000 euro per l'acquisto di un'auto a impatto inquinate zero, a cui si aggiungono 2.000 euro se intanto rottamiamo insieme anche un'auto che ha oltre 10 anni, e sono 6.000 euro. Si sovrappone la legge del 2020 che dà altri 1.000 euro per l'acquisto di un'auto a impatto zero, a cui si sommano altri 1.000 euro se rottamiamo. Quindi, riassumendo, se non rottamiamo abbiamo 5.000 euro di contributi dello Stato, se uniamo una rottamazione se ne sommiamo altri 3 per un totale di 8.000. A questi aggiungiamo uno sconto obbligatorio del concessionario di circa 2.500 euro, quindi abbiamo degli abbattimenti da oltre 10.000 euro sull'acquisto di una di queste auto. Quindi, insomma, è una buonissima proposta per l'utente per stimolare questo tipo di mercato. E poi ho una domanda che mi fanno tanti clienti, quanto consuma un'auto elettrica? Ecco, questa è una domanda che fanno in tanti. Allora, credo che sia opportuno dire che un'automobile elettrica con un euro di energia elettrica fa mediamente circa 30 chilometri. Un euro di energia elettrica dipende anche da quanto costa l'energia. La ricarica domestica, che sia con la presa normale o che sia con la wall box, costa circa 0,22 euro al kilowatt. Quindi vuol dire che una macchina da 35 kilowatt di batteria e da 200 chilometri di autonomia con 7 euro circa fa il pieno. Con 7 euro si fanno 200 chilometri. Ah, pochissimo! Sì, effettivamente ci sono delle possibilità importanti. Poi dovremmo unire che non paga il bollo, perché la regione non mette la tazza di possesso su queste auto. A Milano i parcheggi a pagamento sono gratuiti, non si paga l'area C. Ci sono diverse agevolazioni. Si può circolare sempre, non ci sono blocchi. Si può circolare sempre, assolutamente. Insomma, i vantaggi sono sicuramente moltissimi, ma credo che ci siano dei dubbi, perché comunque è un mercato che è praticamente abbastanza nuovo. Sta sbocciando adesso. Sta sbocciando adesso. Per cui se avete dei dubbi, se avete delle domande, se volete delle informazioni, se volete provare una vettura per capire che cosa vuol dire. Stiamo per rivedere tutti questi concetti in modo più approfondito, per conoscere i nostri prodotti, per provarli, per anche vedere in modo molto pratico come si fa per mettere in carico una macchina, per programmare una ricarica notturna, per riprogrammare la partenza del climatizzatore d'estate o del riscaldamento alla mattina prima di uscire. Tutto molto semplice, più facile di quello che si possa pensare. Più facile farlo che dirlo. Perciò venite qui e naturalmente cercate di capire che cosa vuol dire avere appunto un'auto elettrica. Fabio, dopo aver visto qualche immagine, aver parlato delle caratteristiche di una vettura full elettrica, andiamo a vedere anche nel dettaglio questa. Questa è bellissima. Si chiama Mazda MX-30. È full electric. È un progetto nato esclusivamente per questo tipo di mobilità. Macchina che ha 200 km di autonomia circa, una vettura che ha delle finiture interne veramente molto molto belle. Ha anche un'apertura delle porte un po' particolare che si chiama Lifestyle, che permette un'accessibilità molto ampia. Ha la possibilità di avere una ricarica veloce in 20 minuti oppure, come dicevamo poco fa, con la ricarica casalinga in 3-4 ore si può andare da zero al pieno. Tutte queste auto di Mazda hanno dei sistemi di sicurezza ai massimi livelli, di assoluta avanguardia. È un'auto bellissima da guidare. Io vi invito veramente a venire a provarla perché non sembra assolutamente un'automobile elettrica. Ha una guidabilità da automobile molto dinamica. È un crossover compatto, come se non le auto che oggi sono richieste sul mercato. Ed è veramente, veramente piacevole da utilizzare. Vi invito proprio a venirela a conoscere da vicino perché sorprende. Tutti i clienti che l'hanno guidata sono rimasti piacevolmente sorpresi. Assolutamente. Vedo che è una linea molto pulita, molto arrotondata, insomma, bella da vedere. Per quanto riguarda gli accessori, noi non ci dilunghiamo in questo perché vogliamo, come ha detto Fabio, che voi veniate qui a sciogliere qualunque vostro dubbio, ma soprattutto a conoscere di persona, personalmente questa vettura, a salire su, a provarla perché davvero ne vale la pena. Comunque la linea è veramente straordinaria e come avete sentito anche le caratteristiche sono straordinarie. Per cui approfittatene. Fabio, io questa vettura l'ho vista per la prima volta durante una Fashion Week in esposizione, ammiratissima da tutti. Non mi stupisce, Rosi. Questa è un'auto che è un oggetto di design. Oltre che un'automobile ha vinto diversi premi in giro per il mondo proprio per le sue caratteristiche. È un'automobile, come dicevamo poco fa, full electric, ha circa 200 km di autonomia, ha un motore da 154 CV e ha anche delle caratteristiche che permettono una guida dinamica perché è stata progettata con la trazione posteriore, le sospensioni sono indipendenti, la ripartizione dei pesi è al 50% sugli assi, quindi se il cliente vuole giro una levetta su Sport potrebbe guidarla anche in un modo, diciamo, divertente. L'automobile ha delle caratteristiche molto particolari, per esempio gli specchietti sono digitali, è una cosa che tutti mi chiedono di poter vedere ed è molto piacevole. Chiaramente l'assenza dello specchio migliora l'aerodinamica e toglie anche l'angolo morto. All'interno abbiamo delle telecamere che ci fanno vedere le immagini fuori. Anche lo specchio retrovisore ha la telecamera, possiamo scegliere se quello centrale usarlo con la telecamera oppure in modo classico. l'automobile che ha dei sistemi di sicurezza altissimi, tutti gli ADAS che come si chiamano oggi cioè le telecamere di assistenza alla guida sono di serie, ha anche un impatto della plancia molto moderno con tutta una serie di schermi che si utilizzano attraverso il digital, quindi pigiando con le dita oppure con l'assistente vocale che è di serie sulla vettura che ci può rispondere alle nostre domande. Una macchina bellissima da guidare e anche piacevolissima da vedere. Assolutamente sì Fabio, non abbiamo detto solo il suo nome anche se forse non c'è bisogno. Si chiama Honda E E come Electric. Come Electric, quindi non vi potete sbagliare se venite naturalmente qui in MdAuto avrete l'opportunità di vederla di persona, di vedere anche questi sistemi che ripeto io li ho visti durante la Fashion Week e sono davvero straordinarie questa telecamera veramente molto molto bella, molto all'avanguardia, molto futuristica, venite qui a scoprirla. Siamo a disposizione per qualsiasi approfondimento il nostro primo interesse è quello di far conoscere questa soluzione di guida e vi aspettiamo e siamo a disposizione per qualsiasi domanda, prova e qualsiasi altra cosa possiate avere da chiederci. Un saluto a tutti. Grazie mille Fabio e grazie a tutti voi. Ciao. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti